Non ne possiamo più, perché tutto sul ponente, a Levante non c'è mai niente, quindi un po' per uno. Noi siamo qui oggi, siamo in tanti, per dire il nostro no all'ipotesi di realizzazione della fabbrica di Cassoni per la nuova diga di Genova, presso il porto di Pra, oltre il sesto modulo. In questi giorni, peraltro, sono uscite delle ipotesi di piano regolatore portuale, che ad oggi sono solo delle ipotesi che sono devastanti, quindi ha rafforzato ancora di più la nostra convinzione di essere qui oggi per farci sentire, per dire basta, per dire che il ponente è stufo, che l'equilibrio di convivenza con il porto è davvero molto sottile. Quindi ogni qualvolta si muove una pedina, la nostra situazione vacilla e la gente scende in strada e non possiamo più accettare di essere sempre, di fare dei sacrifici in funzione di qualcosa che giustamente deve esserci, il porto deve svilupparsi, ma anche noi abbiamo le case, viviamo in questi luoghi e abbiamo diritto alla salute, alla vivibilità, al valore delle nostre case. Allora, il corteo è nato come no Cassoni, ma fondamentalmente poi dopo le parole del sindaco e commissario, la manifestazione di oggi è sì, no Cassoni, ma è no ampliamento del porto. Quindi la manifestazione vuole rispondere ai progetti su carta, che il sindaco ha detto che non sono ancora comunque passati al vaglio della DSP, però noi siamo qua per far capire che non accetteremo, non accettiamo e non accetteremo nessuna espansione portuale, sia su carta, sia su pensiero, sia tutto quello che il sindaco e la DSP vorrà proporre in questo territorio. Siamo qui perché bisogna difendere il territorio da questa invasione, da questa visione tossica, perché tutti i rifiuti di Genova sembrano trovare una destinazione solo al ponente, questo non è accettabile. Buongiorno, guardi, io sono venuto questa mattina perché i progetti che ho visto non mi piacciono per niente, mi sembra che gli ultimi 30 anni non abbiano insegnato nulla e che questi ulteriori progetti di espansione, a scapito della salute e della tranquillità dei cittadini, porteranno solamente ricchezza nelle tasche di pochissime persone, una ricchezza virtuale quindi. Sono qua per dire il mio no ai progetti di espansione. Il ponente è Genova, come Levante, è degno di rispetto, i cittadini del ponente sono degni di rispetto. La nostra battaglia è la battaglia poi di tutto il ponente perché siamo uniti e questa è una cosa bella e noi siamo qui per dire sì alla riqualificazione, sì alla tutela e ricordarsi che non siamo solo dei quartieri dove si deve industrializzare in maniera totalizzante, senza tutele per la salute e l'ambiente, la nostra vivibilità e quindi siamo qui insieme a tutti gli amici del ponente proprio per questa ragione.